Un tizio amante dei viaggi va a fare un viaggio in Tibet, bellissimo posto, lo portano in giro, fanno vedere tutto quanto a certo punto lo portano in un tempio di quelli proprio tibetani classici e quando entra lui con grande sorpresa vede sull'altare il Dalai Lama in persona che prega, proprio lui, stessi che fa om, om, om a certo punto lui incuriosito si avvicina e con reverenza fa un inchino e fa perdonatemi Dalai Lama, toglietemi una curiosità, ma che vuol dire? Dalai Lama si gira, lo guarda con un'aria paciosa e gli fa non me l'ho un po' di coglione no 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 eh, fermo